È il 1762 quando Carlo III di Spagna chiama alla sua corte di Madrid uno dei massimi affrescatori dell'epoca per decorare il soffitto della Sala del Trono, nel nuovissimo Palazzo Reale. L'ormai ultra-sessantenne Gian Battista Tiepolo parte da Venezia accompagnato dai figli Gian Domenico e Lorenzo, che lo affiancheranno nella sua ultima grande impresa artistica. Il soggetto scelto dagli iconografi di corte è la Gloria di Spagna. Un grandissimo cielo lungo 27 metri e largo 10, tra i più estesi dipinti da Tiepolo, in cui l'artista alloggia figure provenienti dalla mitologia, dalla storia e dalla religione, coronate dall'arcobaleno, simbolo per eccellenza di pace e di benevolenza divina. La figura della fede, vestita e incappucciata di bianco, con un calice, la croce e la colomba dello Spirito Santo, rimanda alla profonda adesione del sovrano al cattolicesimo. La presenza di Nettuno, dio greco dei mari, ricorda la potenza della flotta spagnola, mentre Cristoforo Colombo guida alla Spagna, assisa in trono, i tesori provenienti dal Nuovo mondo. Accanto a lui, lungo tutto il cornicione alla base del cielo, corrono le personificazioni delle province spagnole, ognuna corredata dai suoi prodotti tipici. La Sala del Trono di Madrid è l'ultimo straordinario riassunto della pittura che Tiepolo porta al successo nella prima metà del XVIII secolo. Rispetto ai soffitti barocchi, tipici del secolo precedente, ricolmi di figure e costruiti su solidissime quinte architettoniche, i suoi cieli si aprono e le figure volteggiano libere e leggere su nuvole dai toni pastello. Le sue ombre si colorano e si schiariscono, regalando ad ogni composizione l'aria tipica del gusto rococò.